Pantucci alla mandorza tradizionale a cuore il mio cioccolato. Abbiamo avuto quest'idea di fare i biscotti al cioccolato un po' perché i clienti ce l'hanno richiesti a più riprese e quindi anche per creare per l'azienda delle nuove opportunità di vendita anche per rompere un po' il colore sempre blu dei nostri sacchetti e quindi dare un tocco di colore diverso all'interno del nostro negozio. Paradossalmente riprendete col blu e rosso i colori di fratto dello stemma, quindi anche questo non è casuale, è anche un richiamo se i colori della città, il blu e il rosso. Grazie.